oh mio dio duniseni non si vede niente questo è il seed super horror no 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 allora non dovete giocare in questo mondo assolutamente no oh porca miseria guardate come minecraft è tutto stranissimo guardate qua c'è addirittura un lago non si vede niente dobbiamo stare attentissimi oh no 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 c'è la strega no no mi ha dato veleno c'è non veleno scusate mi ha dato quella roba la di dilentezza oh mio dio per fortuna per fortuna ok pensavo fosse tipo una specie di caverna ok siamo attenti dobbiamo andare in una caverna prima di morire io sto sentendo strani rumori non vorrei mai decedere no 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 qua c'è il creeper porca cosa no scusate cos'è quella cosa all'inontananza cos'è quella no 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 voi siete pazzi no 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 che razza di minecraft è questo no allora dobbiamo immediatamente cercarci una caverna qua non possiamo restare assolutamente dobbiamo sbrigarci duniziani dobbiamo trovare qualcosa per andare cos'è stato ho sentito qualcosa allora qua io ho del legno per fortuna sono riuscito a prenderlo in questo mondo sarà perennemente notte tipo per sempre per sempre praticamente adesso ci facciamo una serie di stick dobbiamo stare attentissimi duniziani avete sentito allora prendiamo immediatamente la spada in legno qua non abbiamo nemmeno tempo per andare a prendere tipo prima della pietra dobbiamo prendere un sacco di cibo dobbiamo stare attentissimi oh mio dio mi sto cagando ragazzi dai allora per favore state restate qua perché sennò io mi cago addosso allora cerchiamo di sopravvivere in questo mondo perché è letteralmente impossibile secondo me ok perfetto uccidiamo queste cose tranquilli prendiamo il pollo poi dopo io so che in questo modo ci dovranno ci dovranno essere cose veramente spaventose poi non si vede niente io spero di riuscire a fare vedere qualcosa di più durante il video cos'è ma poi cosa sono quei quei cosi là davanti oh porca miseria no per favore no 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 sentite che no avete visto scusatemi no 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 io sto sentendo strani oh mio oh mio dio oh mio dio no 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 allora lo scheletro va bene ma che caspita di zombie è questo scusatemi che caspita di zombie è questo ok allora veloci dobbiamo trovare subito una caverna veloce ma proprio veloce 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 non possiamo stare altro tempo perdere altro tempo assolutamente no dobbiamo subito cos'è questo è il fiume che fa così tanto casino allora questa caverna porca miseria dove sta dobbiamo trovarla prima di morirci mannaggia faccio un taglio dunisiani siamo arrivati io mi sono buttato da tipo là sopra allora dove cosa è appena succede chi è che mi ha ucciso il grue scusate ma vedete qua il grue mi ha ucciso il grue dove oh mio dio devo immediatamente andare a riprendere le cose e il grue c'era quella leggenda com'è che com'è che era non mi ricordo esattamente scrivetemi nei commenti se vi ricordate di che cosa faceva il grue io non mi ricordo bene adesso vado a riprendermi immediatamente la cosa porca miseria che casino questo mondo dunisiani no io sto sentendo un sacco di rumori oh mio dio allora perfetto sono riuscito a mettere finalmente del cibo a cuocere abbiamo trovato dei materiali dobbiamo stare attenti però avete visto quella creatura stranissima che cavolo era allora stiamo vicini a delle fonti di luce io direi di mettere un sacco di torce qua almeno oh porca miseria no 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 ok prendiamo questo carbone ok perfetto allora dobbiamo andare a trovare altre cose vedete in questo mondo c'è la notte perenne perenne cioè nel senso non finirà mai questa notte oh porca miseria ma chi me l'ha fatto fare scusate adesso prendo tutto tutto quanto prendo adesso tranquilli che prendo tutto quanto no io ho paura ho paurissima accidenti ok ora cercherò di salire sopra ok sono salito sopra allora praticamente ok questo che cos'è questo è un ragno io so che eccoci ma porca miseria vai via che schifo che schifo avete visto oh mio dio no che schifo dai vattene via vattene via madonna mia no 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 niente dobbiamo andarcene dobbiamo andarcene no è infattibile questo gioco cioè questo è minecraft super horror super difficile impossibile impossibile cioè come si fa guarda no 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 poi ci sono stelle creature orribili no 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 andate via forza non restate qua per favore no io mi no 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 duniziani mi sto spaventando mi sto cagando addosso no per favore no poi ci sono anche altre cose oh migno ah avete visto porca miseria che casino ma voi cioè io spero che mi sentiate no 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 chi ce lo fa fare ad introdurci in questa foresta state sentendo questi rumori cosa sono oh mio duniziani io la prossima volta verrò qua con i miei amici in questo mondo non ci giocherò più da solo ho troppa paura da solo guarda cos'è questo rumore perché c'è questo rumore guarda cos'è no 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 cos'è quella cosa duniziani che cavolo è quella statua no 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 porca miseria allora dobbiamo stare attenti perché secondo me quella statua ci fa solo male no 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 stiamo attenti attenti attenzione no c'è pure la strega ma porca miseria no dai per favore allora questa statua in teoria dovrebbe essere l'angelo nero tipo cioè tipo una cosa di questo tipo non so esattamente no si sta muovendo no lo sapevo lo sapevo non dovevo venirci perché ci sono venuto porca miseria allora no 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 questa cosa è troppo inquietante ma poi stanno facendo un casino che porca miseria ne basta solo la metà di sto casino qua che stanno facendo allora forza venite qua tanto qua non mi possono far niente come non detto come se possono sono spariti cosa perché no aspetta poi no 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 metti immediatamente la luce ora secondo me qua il gru è non può arrivare nella luce dove in teoria c'è la luce quindi dobbiamo stare tipo qua mannaggia questa strega adesso vado ad ucciderla perché non ne posso più perché proprio tu devi rompere le scatole tu creatura normale di minecraft non mi rompere le scatole ci sono altre mille cose che devi che ci sono in questo mondo è proprio proprio la strega non mi deve rompere le palle eh scusatemi qua andava detto andava detto per forza oh mio dio cos'è cos'è stato ma poi c'è il veleno che mi sta uccidendo praticamente dobbiamo stare attenti oh mio dio no mi stanno uccidendo ok perfetto madonna cioè no scusate doniziani sto dicendo delle cose però c'è davvero qua stavo per morire cioè ci stavo morendo cos'è stato ho sentito un rumore ma secondo me ero io allora forza prendiamo queste torce che ci servono sono le cose più più amiche che abbiamo in questo momento qua su minecraft manco manco gli animali ci sono amici sto sentendo altre cose dobbiamo stare attenti a quegli angeli i dark angel si chiamano mi pare porca miseria qua c'è lo scheletro dai devono rompere le scatole gli scheletri davvero fatemi sapere se volete vedere altri episodi in questo mondo super maledetto porca miseria no allora ehi no 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 qua stanno ci stanno succedendo un sacco di cose strane c'è il ragno schifoso che schifo allora sicuramente porterò altri altri episodi con i miei amici però da solo non più mai più ho visto qualcosa là ok allora qua ci sono le classi gli occhi vedete quello è il dark angel stiamo attenti eh cioè io sto tipo non lo guardo in teoria però adesso è pericoloso porca miseria ci stanno circondando non sopravviviamo così io ve lo dico così non sopravviviamo affatto questa è la notte più maledetta che c'è in minecraft allora stiamo attenti cosa c'è là in fondo cos'è duniziani no 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 secondo me era era un enderman era un enderman oh mio dio era un enderman no 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 via via in acqua in acqua in acqua in acqua oh porca miseria ma non volevo guardarti pazzo uccidiamolo oh madonna no 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 cioè allora è un casino questo mondo ma davvero un casino porca miseria porca miseria siamo qua alla luce alla luce mi raccomando duniziani no 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 siamo incasinati cioè proprio incasinati fino a qua praticamente allora io non so in teoria dovrebbe anche arrivare la luna rossa tipo ma non so come e quando non ne so niente di questo mondo perché mi pare ci sia anche appunto la luna rossa però non vorrei cosa è successo cosa poi duniziani scusatemi non cosa sta succedendo duniziani perché duniziani ma che cazzo cioè no 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 questa cosa non è normale non mi si sta più muovendo ma allora è come se sentite è come se fossi stato teletrasportato chissà dove vedete c'è la freccia del mio mouse che si muove ma scusate ma io allora faccio un taglio e vi dico se succede qualcosa ma sentite il battito no scusatemi un attimo sentite il battito del cuore è come se fossi stato teletrasportato in un'altra parte e non mi sta caricando ok ho chiuso minecraft e lo sto riavviando perché non so ora io non so dove mi farà spawnare e questo è il punto ho chiuso minecraft perché non si muoveva no scusatemi no 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 ma cosa caspita mi state dicendo ma cosa sta succedendo no no cioè vedete non si sta caricando più il mondo ma scusate ma queste cose solo a me devono capitare su minecraft ma sentite ma io ho qualcuno nel pc secondo me cioè ho tipo un hacker non si spiegano altrimenti certe cose cioè scusate ma vi rendete conto se avete visto il mio tiktok il mio minecraft stava camminando da solo cioè il mio personaggio di minecraft poi la nuova avventura che c'è su tiktok e che casino che fa sto coso e adesso sta questa cosa qua no vabbè cioè io io boh io non ho parole i dunisiani ma porca miseria questo questo mostro schifoso se avete qualche idea suggeritemela se avete qualche consiglio datemelo perché veramente non so che cosa che cosa dire non ho parole proprio se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete dunis wow dunis wow perché così vi do anche il cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video horror e non ciao